La sottocommissione elettorale circondariale di Patti, riunita presso il comune di Sant'Agata Militello, non ha ammesso la lista Ricostruiamo San Fratello, Fulia sindaco, che sostiene la candidatura del primo cittadino uscente Francesco Fulia alla competizione elettorale del 10 giugno prossimo. Per cui fino a questo punto i candidati per l'elezione amministrativa di San Fratello sono tre, Salvatore Mangione, Giuseppe Ricca e Salvatore Sidoti Pinto. Fulia presenterà ricorso al TAR perché la sua lista venga riammessa. La sottocommissione elettorale circondariale ha rilevato che 24 sottoscrizioni su 52 sono prive dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e che non sono stati prodotti certificati di iscrizione nelle liste elettorali. Di seguito non è stata presentata la dichiarazione di collegamento della lista dei candidati a consigliere alla candidatura a sindaco, il contrassegno non risponde ai requisiti di legge riguardo alle dimensioni e infine il programma elettorale non è stato sottoscritto dal candidato a sindaco e non sono stati indicati gli assessori. La sottocommissione ha posto la sua attenzione soprattutto sulle firme. La mancata autenticazione di 24 delle 52 sottoscrizioni fa venire meno, secondo la commissione, uno dei requisiti di legge per la presentazione delle liste, una carenza che non può essere regolarizzata dopo in quanto si riferisce ad un'attività svolta e non più ripetibile. Le sottoscrizioni regolarmente autenticate sono 28 e dunque un numero inferiore al minimo previsto dalla legge che per i comuni da 2.000 a 5.000 abitanti è pari a 40. Per questi motivi la lista non è stata ammessa. Ora si resta in attesa della sentenza del Tar.